Sono le due e mezza, il video è pubblicato, visualizzato dalla feccia. Gente che commenta, senza guardare niente, tutti i primi in questa vita. Video scadente, poco intrattenente, quante poche idee mi distruggeranno tanto. Ma ce la farò, centomila iscritti, soldi appalate, soldi. Meglio della TV, siamo meglio della TV, siamo meglio della TV. Siamo meglio della TV, siamo meglio della TV. Che disastro, che disastro è, il video è andato male. Che disastro, che disastro sì, capire perché è così. Pubblicità, pubblicità, i soldi in tasca porterà. Pubblicità, pubblicità, perché ti ostini ad andar via. Ciao, mi saluti, sei il mio amore, ma poi nessuno mai condivide nulla di niente. Ma io crescerò, non mi ferma niente, centomila iscritti, soldi. E io della TV, siamo meglio della TV. Siamo meglio della TV, siamo meglio della TV. Siamo meglio della TV, siamo meglio della TV. Che disastro, che disastro è, il video è andato male. Che disastro, che disastro sì, capire perché è così. Pubblicità, pubblicità, i soldi in tasca porterà. Pubblicità, pubblicità, perché ti ostini ad andar via. Con la tristezza di chi si lamenta. Che disastro è, che disastro sì. Pubblicità, 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 perché ti ostini ad andar via. Che disastro, che disastro è, il video è andato male. Che disastro, che disastro sì, capire perché è così. Pubblicità, pubblicità, i soldi in tasca porterà. Pubblicità, pubblicità, perché ti ostini ad andar via.